Ed eccolo, Ettore Riccardi, che conclude al primo posto, di posto, in un'efficacia di vita. Complimenti a tutti. Stai, stai, stai! Stai, stai, stai! Stai, stai! Stai, stai! Stai, stai! Stai, stai, stai! Stai, stai, stai! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 vai subito.